Buonasera a tutti, buon sabato, buon weekend per chi fa weekend, esce, va, però ci guarda. Benvenuti nel nostro canale, Mamma Sari Leon, iscrivetevi al canale, se vi siamo simpatici. Vieni Leon, vieni a far vedere questo nuovo taglio di capelli. Cioè, taglio di capelli? Mi hai chiamato. Wow, vi piace il mio bambino? Amore, rosso e rosso stai tu. Quando guardi quel telefono. Fai vedere, gira la testolina, fai vedere. Perché ho le guance rosse? Come? Aspetta, aspetta, aspetta. Lo vedete com'è carino il mio bambino? Gira di qua, tutto scalato. Hai le guance rosse, amore. Perché ho le guance già rosse? Perché stai sempre con questo telefono in mano, appena siamo arrivati. Siamo stati a Bariblu, siamo stati a Tiger. Siamo stati a Satur, che abbiamo comprato dei piatti che avevo visto in offerta. Allora subito oggi ce l'ho approfittato, che stava papi, ho detto, beh, andiamo a comprare i piatti nuovi. È vero, amore? Sì. E abbiamo comprato i piatti nuovi, abbiamo comprato anche altre due cose. Allora, allora, cosa facciamo vedere prima, mamma? Però non devi stare al telefono. Non è educazione stare al telefono. Va bene? Come? Appoggialo qui il telefono adesso. Ma come? Poi dopo lo riprendi. Oh no. Mamma, sei rosso o rosso? Guarda. Ma come? Allora, c'è che non sono rosso. Sì, sì, sei rosso. Cosa? Come mai? Sei venuta cos'è? Sei pure caldo. Caldo? Sì, c'è il nasino rosso, le guanciotte rosse. Ma vedi un poco. Ma, vabbè. Allora, passiamo avanti. Cena? La pizza, l'abbiamo detto prima. Vabbè, le persone vogliono sapere che cosa abbiamo comprato. Facciamo vedere, amore. Siamo stati a Tiger. No, prima di Tiger, che sarebbe questa, la busta di Tiger, vi facciamo vedere quello che abbiamo... Oh, è pesante che abbiamo comprato a Satur, ma in realtà sono i piatti che pesano. Erano in offerta a 17 euro, 16 euro e 99. Questi piatti, guardateli. Come sono belli. Pesantissimi. Quindi, la confezione da 6 piatti fondi e 6 piatti piani. Per un servizio da 6, ovviamente, vi faccio vedere solo il primo. Bello. E quello che mi piaceva molto era proprio la ciotolina. Il piatto fondo. Buon suor. Ecco, papi. Sera. Sì, amore, eccolo qua. Ciotola più piatto. Mi piaceva tanto. Sì, amore. Eleganti. Bellissimi. Molto, molto, molto eleganti. Vabbè, adesso poi li sistemo meglio. Ora li appoggio qui. Ok. Poi, sempre da Tiger, da mettere alla stufa. Oh, ma ce l'ho nella borsa. Papi, poi mi prendi quelle due cose che ho messo in borsa? Sì. Che ha preso da Tiger. Ho preso questi che costavano 1,99 euro. Sono bellissime. Sono queste due tazze 1,99 euro, raga. Ma quanto sono belle che poi si vede tutto quello che mettiamo dentro. Per una cioccolata calda, una tisana, ma anche un espresso, un latte, caffè, un cappuccino. Bellissime. E io ho preso due. Vedi, quelle due cose piccoline. Guardate che belle. Per 1,99 euro. Ho detto, ma sì, certo. Che me lo faccio domani, domani. Anzi, stasera una tisana e domani un espresso. Dai, papi, quelle due cose piccole. Apportami la borsa, fai prima. Cioè, è peggio di Leon. Leon, cosa le trova? Non si dicono queste cose. Ripeti che su YouTube non vogliono sapere queste cose. In queste parole. Questo è chi ha? Questo è un olio essenziale alla vaniglia per mettere vicino alla stufa. Siccome ho comprato un cuoricino di ceramica, quello dove va l'acqua dentro, praticamente, alla stufa. E ho preso questo olio essenziale che costava 2,49 euro, 2,39 euro. Sentiamo. Wow, molto vaniglioso. Buono. E perché questo l'hai preso? Per mettere l'idea, tra l'acqua, della stufa. Ah, ok. Praticamente, vi faccio vedere. Dove c'è Sophie? Ecco qua. Lì c'è un cuoricino attaccato, a parte il casino della cucina. C'è un cuoricino attaccato alla stufa e l'acqua, e quindi ci mettono l'olio essenziale. Poi ho preso, se lo trovo, un tappo. Ah, il tappo. Ah, il tappo. Ah, il tappo. E vabbè, il microlo si è riuscito a trovare. Vabbè, volete vedere che cosa c'è nella mia borsa? Sicuramente un giorno farò cosa c'è nella borsa di Sara. Allora, questo tappo che costava 0,90 centesimi per le bottiglie di vino. Per chiudere le bottiglie. Mi sembra un po' piccolino. Ah, dicendo la bottiglia. Sì, vabbè, chiaramente. E quindi questo abbiamo preso da Tiger, da Tiger, scusate, da Satur. Invece, togli la gamba, da Tiger, oh, Leon, si è andata a mettere il pigiama. Lo so, Leon. Dove si è andato? C'erano tutte le cose di Pasqua, ovviamente ho preso solo le cose di Pasqua. Penso, eh. Ho preso questo. Ah, ecco, ha messo il pigiama al bambino. Stava rosso, rosso, stava. E questo qua che cos'è? È un porta decorazione. Sì, niente, Papi ha detto a Pasqua ci facciamo le uova suode e le mettiamo qua, le mettiamo con il po' centro tavola. Sì. Vero, Topolico? Ci dobbiamo mettere le uova a Pasqua? Sì. Poi, prendi, che cos'altro abbiamo preso? Piano piano. Niente. Come niente. E questo, che cos'è? Niente? Un coniglietto pasquale con le carotine. E com'è fatto? Di plastica. Che cos'è? Una plastica dura, una cosa. Carino. Ne ho presi due di questo. Costava 5 euro, tipo. Dove sta l'altro? Ah, Leon. Non mi stai aiutando a prendere le cose? Sì, che mi stai aiutando? Allora, queste carte. Ma ci tendiamo il fuoco in queste carte, è vero, Papi? Questo è l'altro amico, quindi due coniglietti, perché Papi, ha detto, gliel'ha soffiato a una, praticamente, che lo stava prendendo. Però dice, ma io non lo volevo con questo celeste, lo volevo rosa. Eh, vabbè, signora, infatti, è andato ad un altro Tiger. Era rimasto avuto. Hai visto che vanno? Hai visto che vanno? E quindi ne abbiamo presi due. Vabbè, erano gli ultimi due. Questo per dirvi che erano gli ultimi due. Questo, Leon, lo voleva dall'altro giorno. Io non lo volevo comprare, perché costa 4,50 euro, questo pulcino. Però lui piaceva. Mamma, il pulcino, mamma, il pulcino è bellissimo e tenerissimo. Ecco qua il pulcino, l'abbiamo preso, 4,50 euro. Ciao, come lo chiamiamo, Leon? Pio. Come lo vuoi chiamare? Pio. Pio? Sì. O Lio? Pio. Pio. Tieni, questo è tuo. Giardi. Questo coniglietto, molto... Sì, è perché non sta appoggiato bene. Questo coniglietto, molto peluscioso, liscio, vellutuoso, come carino. E quindi ho preso anche questo, insieme agli altri due, facciamo tipo figlioletto. Lo mettiamo anche sempre sulla tavola di Pasqua. Mi piace mettere anche questi addobbi. Che altro? E anche l'altra bimba, quindi i due figlioletti. Ecco qua l'altro coniglietto con l'uovo a metà. Quanto è carino. E di questo stava anche tipo questo colore. Però ho detto, vabbè, non prendo rosa. E papi ha detto, no, ma prendiamo pure i guelli più grandi. No, ma questo costa di meno. Papi, no, 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 prendiamo quello splendacione io. No, 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 la tirchia. No, 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 prendiamo questo. Già, si è impiegato tutto. Va bene. Ecco, questi qua solo che non sono pasquali, però erano colore primavera, pasqua. Tiffany e mi stavano terminando. In realtà li uso io, il cotton fioc, soprattutto per pulire le orecchie ai cani. Noi facciamo con la stoffa. Quindi, anche perché il cotton fioc, dicono che fa male pulire le orecchie ai cani. Lo faccio perché è l'unico modo, insomma, per pulirli in meglio. Che c'è, amore? Basta, è finito? È finita la spesa? No, vedi che c'è anche un'altra cosa? C'era terminato lo scotch, il nastro adesivo. Trasparente e abbiamo preso un euro. E basta, vero? Con questa carta ci accendiamo il fuoco. Abbiamo speso da Thai Gear 27,50 euro. Vieni qua, sei finito, saluta e vattene col telefono. Che quello vuoi fare? A diventare di nuovo rosso-rosso. Aspetta. Dai, di, 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 di. Di. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Vai. Ciao. Vai, vai, vai. Di e iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. No, no, non devi spendere. Vai, vai. E va bene. Quindi, dicevo. Vabbè, abbiamo preso anche una busta che costava un euro, vero? È carino, è un po' tutta, però è grande. Questa la possiamo usare per la spesa anche, perché sono belle resistenti. C'è un altro scontrino. Ah, quello della carta. Vero? L'abbiamo pagato quel banco. E va bene. E quindi questi qua, scontrini e tutto, li mettiamo nel fuoco, nel cammino, così poi gli accendiamo il fuoco. E Papi è tornato dal dentista. Vuoi far vedere questi denti provvisori che ti hanno messo? Nel prossimo video, faccio tutto un video dell'Albania. Perché gli interessano un video dell'Albania? Oh. Eh, fai vedere però. Perché c'è un video dove si vedono i denti? Sì, sì. È vero? Ho capito. Volete vedere un video di Papi? Chi è andato in Albania a farsi i denti? Vi risparmio all'inizio dei denti. Io non vi risparmio. Io vi risparmierei proprio il video, cioè. Comunque, sarà un video, cioè, guarda, veramente, se facciamo dieci visualizzazioni, in quel video, ti pago pure una pizza. Ok. Se riusciamo a pagare... Dico mia madre di vedere la prima macchina. Tua madre non è iscritta sicuramente anche al canale. Va bene. Allora, ragazzi, vi salutiamo da questo video pasquale, come lo chiamiamo? Video di Pasqua. No, non è vero. Per Pasquale. No, acquisti shopping di Pasqua da Flying Tiger. Vabbè, tanto loro lo sanno come l'abbiamo chiamato, perché lo vedono già scritto sul titolo qui. E noi ci andiamo a preparare le pizze stasera con questo, come è che l'ha chiamato? Pio. Pio? Il pulcino Pio. Che fantasia, guarda. Oh no, non se ne è venuto il fatto apposta qua. Vabbè, lo dobbiamo tagliare. Eccolo qua, dal pulcino Pio, da Papi e da me, e tutto, i cani qua che stanno già russando. E ora, tra un po' entriamo anche gli altri tre che stanno fuori, più i due. Ah, sa? C'è un pulcino Pio. E quindi niente, ragazzi, è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.